non ci sono i pirati negli elementali quindi ci sono i mech quindi in teoria potrebbe essere buono brucan proprio per la questione del fatto che tu puoi farci l'hp sopra e togliere il scudo ma io andrei di maia comunque mi piace di più perché aveva fatto mi piace questo non mi piace quindi quello anche buono e quindi si fa la rolda giustamente punito è comunque una coppia quindi forse è meglio così si infatti te mi ricordi che sei in svizzera è forza che fa freddo il periodo più bello dell'anno per gli introversi però non so mica dirti se sia veramente il periodo dell'anno sta tanto bene estate al fresco al caldo fresco altro che comunque ragazzo lui a robot quindi in realtà 23 ci dovrebbe far vincere e poi quando il fastidobot tiro tutte le gemme sul fastidobot più questa io sto tanto bene al caldo nella fine pochi giorni fa era sui 30 anche qua il caldo giusto quello di settembre è bellissimo non quello affoso di luglio ovviamente c'è la via di mezzo quello di poco fa meno di 10 gradi è troppo freddo ci si ammala ciao coet buonasera esatto i 27 gradi la temperatura migliore per il proliferare della vita umana attenzione questa è la stessa cosa di questo ma più forte quindi prendo lui ma sto l'aquila 6 gradi sta per scappare un altro starnuto in quella fase 50 per cento arriva lo starnuto 50 per cento non arriva lo starnuto sacco di ragazzi dell'aquila quanti abitanti all'aquila buona battaglia oh yes metto starnuto vado a las vegas si vado a san diego ragazzi per lavoro e poi stiamo di giorni a san diego eh scusate vado a las vegas a san diego per lavoro e poi stiamo di giorni a las vegas cazzo sto svalvolando rischio di avventi di ammalarmi allora prenderei questo e questo le due coppie l'aquila ha 50.000 abitanti è impossibile che ne abbia così pochi san marino ha 50.000 abitanti non ci credo mai fatemi cercare ah eh ci sono pochi di più 69.000 doppi di san marino ragazzi quanti ne ha rimini madonna ragazzi qui non c'è nessuno tutti qua siete tra l'altro ragazzi sono uscito con una ragazza dell'aquila che stava a cesena roba che la conoscete pure solo una volta però ciao vitto il bingo possiamo già iniziarlo avete preso tutti la cartella direi che possiamo startare avete preso tutti qua vedo 79 quindi direi che siete in diversi che non l'hanno presa ok c'è la tripa di sto signore al momento mi potrebbe arrivare un moniere di qualunque tipo io comunque credo di fare semplicemente tirappi e accapili sopra faccio svegliare un po' di persone no dai l'hai già usato Mirko il tuo scuoti ossa giornaliero basta se no mi tocca rimuoverlo realmente dopo hanno ragione quelli che si lamentano comunque farei così e basta non credo neanche di vendere questo per fare quello che senso ha nessuno stiamo fermi metto questo magari come pro che aveva l'annoio no io trovo allora 87 player 90 iniziamo dai stavolta diciamo 100 ora è l'uno e mezzo quindi posso capire un pochettino più di pigrizia e anche da accampati con le amaca nel bosco si viene in live a supportare oddio aspetta no non stai sfottendo i ragazzi dell'aquila se tu hai accampato con le amaca mi auguro 5 sub potevi farmi partire uno scuoti ossa no se si j manco a fare così però così te lo facciamo partire uno scuoti ossa certo che te lo facciamo partire con 5 sub gift scrivi al buon mirco e lì te lo fa partire 5 sub gift mi sembra al minimo ragazzi uno scuoti ossa penso possiate essere tutti d'accordo no allora in qua abbiamo abbiamo una tripla pure lì credo siano i soldi comunque cosa possiamo fare in late game qua murlock murlock robot e i soldi sono forti pesce è inutile vuoi statuino sono i soldi ma i soldi sono forti quindi fai i soldi soldi dai allora lascia saltare allora freeze 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 facciamo questo qua turno dopo ragazzi abbiamo 10 oro quindi è tier up e tripla e hp e si fa così dai non mi ricordo che a farne altre si si va bene un po' scuoti ossa quando vuoi cj ma lo vuoi fare a sorpresa o lo vuoi adesso quando faccio partire io così immagino tu voglia fare la sorpresa una volta ho servito una bevanda a un cavaliero della morte si è congelata nella sua mano di jodie a las vegas adesso vediamo cosa fa in teoria abbiamo abbiamo prenotato una vacanza sul gran canyon una vacanza sul gran canyon un trip sul gran canyon 46 mesi ola la ulo la ulo la grandissime e grasse facili pensate che finisca a fare altro però l'idea è quella adesso la san niva las vegas però l'idea è quella comunque qua dai 5-7 ne becco 8 male wow timothy grazie del 46esimo c'era geomante che merda cioè teoricamente che il tuzal mi da una tripla poi però va a merda muscalzone merda anche il muscalzone potrei fare orgozoa magari mi da l'oro per prendere la tripla subito che forse è l'ideale che è il tuzal che spacca testa d'ossa ci vuole due turni però potrei già fare un'altra tripla però che merda boh mi sembra una schifezza prendi sto mascalzone e fa il serio e cosa faccio hp su peschi e si dai mascalzone hai ragione perché giustamente abbiamo i gold che aumentano quindi si fa murlock quindi frizzo il tiracavi lo facciamo turno dopo e faccio semplicemente hp sul peschi o il contrario non ha senso vendere due no farei così farei così così questo che ho naga il proker si mette sempre va bene vediamo ha ragione il falegname comunque qua è questo qua perché abbiamo i soldi quindi effettivamente lui apre una via cioè va verso una via che puoi fare con il monile piccolo che abbiamo preso anche se è stato turno qua penso che ci ammazzeranno gli anni vabbè io 8 danni sarebbero buoni da prendere sono pochi quindi quella 8-1 si schianta dove vuole si deve schiantare anche l'altra 8-1 ma dovrebbe essere esatto fattibile però quanti danni sono comunque non sono qua 8 sono di più sono 12 ci sta in media quindi c'è una tripla di questo no che merda però così tempo evocatrice ma fa schifo quella no drollo questa è una tripla facciamola questo questo ci sta diciamo sono la maga guida ma è questo dai ti fa la 3-2 3-2 è un bel battle cry però rollerei no 3-4 è forte quello lì però non so se ci fa vincere cioè è forte solo se qua mi esce però si prende perché potrebbe arrivare a mimonire vero spini allora allora quindi qual è la play? devo prendere quello quindi vendo questo prendo prendo questo faccio capi su di roll perché non si sa mai prima faccio così vabbè vai non dirlo abbaffato peschi in frammenti inutili cioè in teoria qua potrebbe con due vero spini darmi la mucca no? baffa le gemme subito forte potrebbe darmi qualunque cosa ma in generale cioè ci può stare tutto tutto abbiamo più opzioni vediamo per il resto ho comprato quello ho giocato quello che mi è arrivato questo è una merda dopo che ho giocato un servitore più 6 più 7 e il servitore più sinistro nella tua mano questa qua funziona con questo no perché dice lanci questo gioca cos'è il 4? o il 3 forse è il 3 allo stato attuale cioè l'ultima è l'unica che scamba qui in murloc quindi in realtà è veramente quella però medivh mi dà la possibilità di trovare i murloc che mi mancano l'ultima è buona però baffo cose che non posso giocare beh vabbè però un trust in murloc un principe lock che tra l'altro si fa HP pure sopra eccolo forte poi bisogna trovare quello che si rievoca allora lui lo evocherebbe ma non voglio prenderlo adesso questo va via roll roll questo anche cazzo questo si si fa si fa si fa anche qui ok bella scelta molto tattica bella scelta molto tattica dai ci sta ha fatto un botto a sto di Roe che deve assolutamente essere giocato sono quasi un cazzato a farlo cioè prenderlo con l'HP adesso mi tocca trovare il murloc che evoca attenzione no è massimo di C1 niente 10 danni armor ci salva comunque armor ci mette la sicurazione devono brand draccar il 7-2 questo si prende no draccar c'è allora via questo via quello in realtà anche il 9-10 direi che può saltare lui si gioca se gioco il depredatore mi evoca questi non è il massimo però draccar è buono draccar è buono anche se mi dà solo un pezzo in più ma è quello che serve questo si fa questo direi che è il meglio robaccio oh tripla di principe lock allora che va giocato e poi si unisce turno però il punto è che se lo gioco adesso eh no eh no eh no niente prenderò il 6-3 però il 6-3 si prende ma si vende perché alla fine qui io cuido solo con draccari volvendo questo per giocare l'ora e fare il 6-3 non è che sia il massimo teoricamente prendo solo questo ora e rollo armor e 7-2 e qua direi che salta questo non ti lay beh tra l'altro l'ho sbagliato no alla fine si comunque la situazione è un po' strana nel senso che io adesso ho il principe lock che scala ma le stati vanno sul murlocragioniere quindi forse il murlocragioniere se non prendevo armor ero mortissimo il murlocragioniere forse l'ha cestinato bello ormai cioè forse l'ha cestinato questo qua alla fine cioè è più forte baffare lui ora si che si ragiona poi tutte le stats vanno su questo e lui evoca questo comunque deve andarsene questo ma no forse si davvero questo da buttare cioè o triplo lui o è da buttare questo è molto più forte da baffare perché altrimenti cioè lui prende 4-4 extra e si buffa 10 questo 2-3 ma solo se è un murloc è lì il punto io in realtà voglio prendere anche altri no? ci sta brutti assolda pure una di queste reclute però un momento boh farò ciò che faccia da fare da fare hp su quella che mangiava assolda pure lui assolda pure una di queste reclute puoi puoi ancora tra l'altro tra l'altro baffa pure l'uso anche lui baffa si prenderebbe avrei preso molto ho bursato un sacco di staff per questo cazzo di ragionire dovrei buttarlo e poi ritriplarlo tipo per avere per aver senso come play non so trovassi brun comunque e ha senso giocarlo ahimè farò gioco lui e butterò draccare butterò questo anche io avrei scelto quello in teoria questo è anche vautato cioè fatemi devo muovere chiesto per la tripla questa sempre meglio avere qualche servitore da giocare bene credo di essere morto ragazzi vediamo ma forse no proprio di tre di incredibile ed effettivamente qua caga un 2,46 qua ha trovato bene lui però si è messi bene ragazzi tutto tecnica del piangino fortissima ovviamente ovviamente se riuscissi a triplare il murlo con la gioiniere mi ci hanno in mano e soprattutto dovrei trovare il murlo corale ok ben vinto bel murlo corale che copia le stats riuscissi che puoi raggiungere che puoi raggiungere triplato però è arrivato tra due turni no hai fatto adesso però che arriva con lui cazzo ah no non è vero sta bene lì ok tu era corali due corali pazzesco siamo contro naga quindi devo vendere questo questa roba forte vendo loro 3 devo fare scam adesso abbiamo finito di generare carte così gioco loro gioco loro baffo questo faccio carte vediamo se trovo la tripla io ho due corali assurdo due corali veramente assurdo anche a me non piaceva eccoti una moneta d'oro per il disturbo ecco che bello prevo coloro stai davvero creando una grande armata abbasetti due spostare proprio quello anche a me non piaceva eccoti una moneta d'oro per il disturbo assoldando quel servitore otterrai una tripla io lo dico sempre fai le cose in grande o non farle a tanto 100 cucchini e 5 due eh ma quanto sei lento va bene qualcosa abbiamo chiuso eh ma quanto sei lento eh ma quanto sei lento così lento ragazzi è andato è andato un bel è andato un bel turno è andato anche tutto scuso anche tutti i soldi eh ma quanto sei lento comunque è comunque meno peggio che lo squati ossa è rimborsato bene dobbiamo solo generare carte il brand non si è fatto vedere ma allora naga quindi prendo gli roi altri strillatori questo vola via alla fine devo qualunque carta gioco si buffa lui ma il murloc di più è uscito brand non ho spazio posso tirare ste carte ma se so prendere qualunque murloc ragazzi o qualunque no e questa è la fine da più forte fare così arma è una chiusura è quell'eroe anche io avrei scelto quello vabbè qua lo butto a caso shield è buono potevo fare anche il tantino sull'iroe ma poi penso di buttarlo guarda che ci stava uuuuh tre giusto comunque si è giusto è giusto pompare il lock perfetto con il grammatica nerd cliana questo ragazzi è stato uno scuoti ossa silenzioso quanto mettiamo l'arcela ma cj lo scuoti ossa di cj questo è stato non so questo perché l'ho fatto però 5-2 ma si prendo con due carte questo buttiamo resetta al posto di questo no non credo al momento anche a me non piaceva ecco più una moneta d'oro per il disturbo mi piace il tuo modo di pensare anche a me non piaceva ecco più una moneta d'oro per il disturbo tipo di stiratura dove è orribile cazzo venturia gioca l'arcela l'altro branchia basso non ha senso di essere giocato al momento tiro questo potrei buttare via lui potrei buttare lui prova a fine per mettere cosa niente roll per la 2 in caso di parità la usiamo hanno morti strani a strega non è male vabbè come ho sciattato doggiati i corali è rimasto solo un fiele ma tutti e due non li killa mai corale più lock non li killa mai ragazzi abbiamo vinto abbiamo vinto pure due fiele due fiele sportivi cosa dite ne facciamo un'altra stacchiamo un'altra stacchiamo un'altra